Venditalia 2024 continua, ci troviamo allo stand della Zerica SRL, un produttore italiano ormai presente davvero in tutto il mondo con le attrizzature che realizza a favore dell'erogazione, della depurazione dell'acqua e siamo in compagnia di Alessandro Albanese, il direttore commerciale dell'azienda. Ciao Alessandro e bentornato. Ciao Fabio, buongiorno a tutti, benvenuti a Venditalia 2024. Un appuntamento che era molto atteso anche per voi perché anche voi in questa circostanza andate a presentare delle novità. Da dove partiamo? Sì, allora intanto grazie per quest'altra occasione. Venditalia 2024 in questa prima nuova esperienza a Fiera Romilano, quindi una padiglione in una location ancora più ampia e ancora più adatta alle esigenze e all'importanza di questo importante settore e comparto. Zerica ormai da anni lavora, progetta e realizza le proprie attrezzature per offrire ai propri clienti e partner soluzioni sempre più innovative e che semplifichino soprattutto il loro lavoro e lo rendano sempre più efficiente. Le nostre innovazioni hanno da sempre riguardato la progettazione, l'ingegnerizzazione e la digitalizzazione delle macchine in modo tale che siano più semplici sia da preparare, da installare, da manutenere ma soprattutto che siano in grado di offrire un servizio facile all'uso per l'utente finale. L'innovazione che oggi Zerica propone è il sistema vending secondo Zerica, è un sistema semplice da usare, semplice da preparare che può essere adattato su tutte le nostre attrezzature, qui a Venditalia in particolare lo abbiamo presentato ai nostri clienti sulle futura, la nostra più piccola compatta del portafoglio. È un sistema che permette a qualsiasi attrezzatura da poter passare con una semplice programmazione da un sistema aperto a un sistema chiuso. Cosa vuol dire? Che attraverso una tecnologia applicabile su un qualsiasi dispositivo gadget, che sia una scheda, un portachiavi, una borraccia, permette al gestore di poter rendere la macchina utilizzabile soltanto per una community o addirittura permette anche di trasformare l'attrezzatura in una vending machine e quindi possibilmente ricavare del guadagno dalla vendita e dalla somministrazione dell'acqua della macchina. Questa è una delle innovazioni che si accompagna ad altre soluzioni, pensate anche all'evoluzione del vending, pensiamo alla realizzazione dei coffee corner, delle aree break in cui oggi possiamo inserire la nostra ultima realizzazione, la mix and go, quindi una macchina destinata alla miscelazione di bevande o di cocktail. Alla natura, oggi in versione più grande, più importante per esigenze professionali, che può essere installata all'interno delle aree break, delle aziende piuttosto che delle palestre, delle strutture comunque aperte al pubblico. Mi sento di poter sottolineare come oggi tutta la ricerca e innovazione che è frutto di un intenso lavoro del comparto interno della Zerica e la intensa attività di ricerca di mercato e dell'attenzione che poniamo all'ascolto dei bisogni dei nostri clienti è tutta riversata e tutta trasferita all'interno del nostro portafoglio attrezzature. Alessandro, voi siete veramente un volano di novità, di innovazione, siete infaticabili perché continuate a sfornare delle innovazioni in questo settore e a favore del settore dell'oreca e del vending. Nello specifico Venditalia per voi è la fiera ideale per andare a presentare questa tecnologia, quella NFC, che può mettere in condizioni l'utente di acquistare attraverso appunto i vostri distributori delle porzioni di acqua. Per tutti coloro che sono dall'altra parte, in che modo è possibile entrare in contatto con voi? Qual è l'indirizzo e-mail a cui è possibile scrivere? Allora, intanto il sito internet è zerica.com, l'indirizzo e-mail è info-zerica.com. Oggi abbiamo un'organizzazione che è molto presente sul territorio, che è presente per tutti i nostri clienti con reparti dedicati di customer care, di R&D, di sales, inside, che permettono veramente alla nostra azienda di essere sempre vicino e sempre prossimi ai nostri clienti. E ricordiamo anche che appunto sul sito zerica.com è possibile andare a intercettare tutta una serie di attrezzature in grado di erogare l'acqua depurata e filtrata davvero per tutte le esigenze. Alessandro Albanese, direttore commerciale per l'Italia e per l'estero, grazie. Grazie Fabio, grazie a tutti e buona conclusione di Fiera. Grazie a tutti.